Il Vangelo e le letture di oggi certamente spiaceranno a tutti i maniaci del pulito, ai cacciatori di tossine, ai salutisti del nostro millennio, agli eroi dell'igiene, agli idolatri della purificazione corpòrea e ambientale e ai disinfettati compulsivi. La pulizia esteriore, infatti, senza l'osservanza del comandamento di Dio, non ci fa puri, ma ipòkriti. E contro gli ipòkriti si scaglia oggi Gesù. Egli, che è la carità in persona, si arrabbia quando si copre il male sotto l'apparenza di bene e si nasconde la sporcizia del cuore dietro un impeccabile pulizia esteriore. Gesù non sopporta chi si scandalizza dei suoi discepoli perché hanno preso del cibo con mani non lavate. Non sopporta chi non si preoccupa di lavare nel pentimento un cuore abituato all'impurità. Per questo tuona citando Esèia «Questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me». La polemica e i rimproveri di Gesù sono storicamente a quelle tradizioni di uomini che furono aggiunte alla leggia del Sinai, la quale doveva essere la vera norma di vita per quel popolo che vuole entrare nella terra promessa. Purtroppo, però, ieri come oggi, i dieci comandamenti si mettono da parte ed emergono all'ora altri precetti con la pretesa di migliorarci la vita, di liberarci da un problema, di farci vivere più a lungo. Sono in realtà delle coperture della malavita che conduciamo. Gesù sintetizza così il problema. Trascurando il comandamento di Dio, voi osservate la tradizione degli uomini. Il culto dovuto a Dio è diventato il culto del pulito, il culto per le norme esteriori. E Gesù non ci sta, perché la contaminazione che teme e combatte di più è l'allontanamento della verità e l'assorbimento nel mondo. San Giacomo lo dice con queste parole. Religione pure e senza macchia davanti a Dio Padre è questa visitare gli orfani e le vedove nelle sofferenze e non lasciarsi contaminare da questo mondo. Il Salmo ci diceva che chi cammina senza colpa dice la verità che ha nel cuore, mentre il Vangelo manifesta le vere impurità che dispiacciono a Dio e che sono i propositi di male, covati nel cuore e provenienti dal cuore. Dice infatti il Signore, dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono i propositi di male. Impurità, furti, omicidi, adulteri, avidità, malvagità, inganno, dissolutezza, invidia, calunnia, superbia, stoltezza. Tutte queste cose cattive vengono fuori dall'interno e rendono impuro l'uomo. Ognuna di queste impurità del cuore testimonia un allontanamento dalla verità e un assorbimento nelle contaminazioni del mondo. L'allontanamento dalla verità dipende dal fatto che non si prende sul serio la parola di Dio. L'assorbimento nel mondo è conseguenza della perdita della libertà dei figli di Dio per diventare schiavi di un idolo. Vediamoli uno per uno i propositi di male o impurità del cuore. Le impurità sono i pensieri e le azioni con cui il piacere venereo si insinua, mi domina e occupa la mente e il corpo. Se li accetto, rinnego la verità che posso completarmi solo con il sesso opposto al mio e solo in un progetto di vita benedetto da Dio nel matrimonio. Le impurità sono gradite al mondo perché esso sfrutta la fantasia e le persone per gli interessi del momento, senza instaurare legami affettivi. Tutti i corpi nudi delle pubblicità che vediamo in televisione o nelle sfilate di moda di Marco Marco sfruttano proprio questo interesse. I furti sono la negazione della verità sulla proprietà privata e sul senso del limite al mio bisogno. Il mondo li ama perché ha globalizzato e tolto sovranità a ogni proprietà, mentre si è impegnato a creare e moltiplicare i bisogni. Un povero dei settant'anni fa avrebbe rubato una salsiccia per sfamarsi. Un povero di oggi ruba il telefonino a un altro povero come lui, ma col telefono migliore del suo. Gli omicidi negano due verità, la segredità della vita e l'umanità da custodire. Parimenti sono contaminazioni del mondo che è propenso a rimuovere tutto ciò che ne ostacola i disegni di potere e successo. L'aborto e l'eutanasia ne sono terrificanti esempi. La vita nascente e la vita non efficiente non meritano cittadinanza in un mondo che ama solo egoisticamente. Gli adulteri negano l'unicità del matrimonio e la fedeltà dei coniugi. Il mondo li approva perché dove non c'è famiglia stabile c'è la disponibilità a spendere più superficialmente del denaro. La persona fedele risparmia perché moglie e figlie sono la sua vita. L'infedele invece sperpera perché per mantenere un amante o si paga o si resta soli. L'avidità è l'idolatria della vere che nega la verità dell'essere. Piace al mondo perché impedisce la lucidità del pensiero, la riflessione, il giudizio onesto. La malvagità offende la verità del nostro essere destinati alla bontà. L'inganno è il tradimento della fiducia di chi ci considera amici onesti e qualificati. La dissolutezza è la vita che affonda le sue radici nella trasgressione scelte dei divieti. Il dissoluto conosce la morale e la trasgredisce per il gusto dell'eccesso. L'invidia è lo sguardo triste sulle persone che odia la felicità e i beni altrui. L'invidioso non sa gioire del successo degli altri. La calunnia è il modo peggiore di usare la lingua, nega la verità dei fatti compiuti o non compiuti da qualcuno e così afferma che quella persona può essere tagliata fuori dalla società. Il calunniatore vuole isolare il calunniato, infangandolo in modo irriconoscibile agli occhi di tutti. La superbia è il farsi grandi, buoni e belli senza alcun riconoscimento agli altri. E la stoltezza, per concludere l'elenco fatto da Gesù, è la mancanza di fede nella rivelazione e nel reale. Ecco i nemici del pulito, ecco gli acari del pensiero, ecco le vere impurità che ci avvelenano il cuore. Dovremmo molto impegnarci ad essere docili alla parola di Dio e a metterla in pratica, se non vogliamo diventare malati di pulito. Una di queste malattie, una di queste malate, meglio, in un programma televisivo omonimo fu contenta di far vedere che la tazza del suo gabinetto era così pulita che ci si poteva bere, infatti prese l'acqua dal fondo e la beve davanti alla telecamera. Noi vogliamo essere malati di carità, per cui dal fondo del nostro cuore si possa sempre e solo trarre quel bicchiere d'acqua per l'assetato che ci mediterà il Paradiso. Sia lodato Gesù Cristo.